Per festeggiare il compleanno di Messi abbiamo l'imitazione del suo gol bellissimo all'Iran e non era facile da imitare come gol. Mauro Fabio, o Fabio Mauro, ce lo imita così, così lo possiamo contemplare. Sono tre le sue proprie, uno più bello dell'altro, ha un bel mancino, veramente proprio lì. Adesso ce lo faccio farvi vedere, passettino corto con la Messi, è una pulce molto buona anche Mauro Fabio, Fabio Mauro, bravissimo. Che bravo, davvero. Allora, Alberto, che senso...